Nel palazzo dell'innovazione della conoscenza fuori grotta sono stati premiati i ragazzini della scuola Silvio Italico, vincitori dei premi in comunicazione digitale, fisica, matematica nell'ambito dei PON 2012. La scuola, rimasta per 13 anni paralizzata da lavori mai iniziati e che ancora oggi attende la consegna di un'aula dell'edificio, è stata oggetta di un corto medraggio realizzato dai giornalisti Davide Gambardella, Antonio Salvati e Beniamino Daniele dal titolo Una scuola a metà. Tra i progetti portati avanti quest'anno dagli alunni dell'Asilio Italico, la creazione di una redazione giornalistica e del giornale intitolato L'Italico. È un progetto unico che utilizzando i finanziamenti europei apporta agli alunni dei contributi di formazione notevole. Sono stati effettuati diversi percorsi formativi in campo del potenziamento delle discipline chiave, matematica, scienze, informatica, inglese e soprattutto in modi non consueti. L'italiano per esempio è stato potenziato attraverso la creazione di una redazione giornalistica, quindi con la produzione di un giornale e attraverso la sceneggiatura e creazione di un testo teatrale. Le scienze attraverso la creazione di un orto biologico a scuola. La fisica, che è una materia abbastanza strusa, attraverso un laboratorio di unicamente esperimenti di fisica. E poi percorsi tradizionali di matematica sono stati svolti attraverso gare e giochi che hanno messo in competizione gli alunni. In un anno è stato fatto un passo in avanti. L'anno scorso il titolo era Finiamola perché c'era una scuola veramente che era in condizioni disastrate. Quest'anno alcune cose sono state inaugurate, alcuni passi in avanti sono stati fatti, però il giornale, che mantiene uno spirito critico, perché questo non è un giornalino ma un vero e proprio giornale, dice non ci basta. Dice non ci basta perché bisogna andare avanti. Questa scuola va ancora ulteriormente migliorata e quindi io credo che in qualche modo anche appunto il giornale pubblicato l'anno scorso il lavoro fatto assieme da giornalisti, studenti, insegnanti, genitori abbia prodotto un risultato. Questo è un dato importante.